Come avete detto ieri non vi siete spostati davanti al palazzo del comune di Agrigento, avete passato la notte qui? Sì, abbiamo passato la notte qui, tutti qui, abbiamo dormito qui e abbiamo passato una brutta notte. C'è sempre per questo problema perché non abbiamo né casa né lavoro, e infatti noi se non ci danno una risposta perché ci hanno preso sempre in giro per due anni, chi per tre anni, noi di qua non ci smuoviamo. Vi aspettate anche un intervento del prefetto, anche per questo siete qui davanti? Certo, è importante avere una risposta del prefetto perché forse è l'unico che ci può aiutare, perché qua al comune c'è soltanto bla bla bla, però non succede mai niente. Se nulla si muoverà, resterete qui, continueremo a fare questa protesta comunque. Io abito da un buco così per dare spazio a questi bambini, oltretutto sono malata io, e quindi avevo bisogno di una casa sola perché i bambini hanno bisogno del suo spazio. Quanti siete in casa? Cinque. Siete cinque? Cinque, non è giusto stare in questa maniera. Mio figlio aveva una casa, aveva fatto la domanda del 12 anni, e 12 anni sì sì, no no, sì sì, no no, è arrivato fino a qua.